Ciao, come vi chiamate? Matteo, io sono Loris Venite da? Veniamo da Brescia, vicino a Brescia Domani partite col numero? 375 396 Cosa ne pensate di questa gara? Il nostro obiettivo stagionale ci alleniamo duramente da un anno con qualche imprevisto E domani si gareggia lo stesso? Ovviamente si gareggia lo stesso Perché un vero tiratleta? Un vero tiratleta è pronto a soffrire e soffre per definizione Grazie, ciao